Chiusure, su testa. Gambe flesse, e divaricate oltre all'ampiezza delle spalle. Braccia aperte, e leggermente flesse, in modo che i manubri siano in asse con le spalle. Mantenendo, l'angolo dei gomiti invariato, sollevare i manubri, e portarli in linea verticale con le spalle. Ritornate alla posizione di partenza. Grazie a tutti.